Una mostra per celebrare lo stretto rapporto tra la città di Firenze e il santuario della Verna. In occasione dell'ottavo centenario delle stimati di San Francesco, fino al prossimo 3 novembre nella sala d'armi di Palazzo Vecchio, sarà esposto l'abito del santo. Una tunica di lana grezza simile a quello dei poveri e dei contadini ai quali egli era vicino. Il saio, preziosa testimonianza della vita semplice, tornerà come esempio di prossimità e pace nella città fiorentina che lo ha custodito per circa 500 anni. In contemporanea anche la mostra dal titolo L'Ultimo Sigillo, un viaggio immersivo nella storia del santuario francescano, luogo nel quale il santo ricevette le stimmate, ovvero i segni del crocifisso su mani, piedi e costato, nel settembre del 1224. Un video, proiettato a 360 gradi all'interno della sala, accompagnerà lo spettatore nella riscoperta dell'affascinante rapporto tra il santuario, simbolo di guarigione e speranza, e Firenze ancora forte e radicato.